Buonasera, benvenuti a sabato di Nardenza del convento, siamo in compagnia di una bellissima sposa che mi ha raccontato in pochi minuti la sua vita di due anni di finanziamento con Ignazio. Ignazio. Ignazio da? Trieste. Da Trieste, parola originale. Un ragazzo veramente semplice, molto democratico, poco geloso. No, assolutamente non è geloso. Non è geloso, neanche di questo momento? No. Allora, noi andiamo a regalare un bel momento a questa nostra sposa che si chiama? Denada. Non ho capito. Denada. In che senso? Denada. Come spagnolo? Di niente. Vabbè, allora è stato un piacere, di niente, grazie. Oh, Lara, Denada, da che cosa arriva questo nome? Sono nata in Albania. Ok. E i tuoi genitori da cosa si sono ispirati? Non lo so. Non lo è stato scelto da mia nonna. Ha detto, guarda, non so che cosa fare. Cosa dici? La chiamiamo Denada. Denada, la chiamiamo Denada. Denada, allora tu abiti a Trieste, sei fidanzata da due anni con Ignazio e andrete a dire sì. Quando e dove? A Trieste il 24 giugno. Siamo tutti invitati per il taglio della torta, almeno? Assolutamente sì. Vi aspettiamo tutti. Grazie, gentilissima. Puoi salutare qualcuno in particolare? Tutti quanti. Gli amici che sono venuti qui? Assolutamente sì. dai, fai nomi veloci. Diana, Monica, Giulia, Ferdinando e Silvia. Benvenuti ancora al convento, noi vi auguriamo una buona serata, vi raccomando l'area YouTube, le Fotoset, Radio di Sto Convento da raccontare e raccontarci e io sono Alex Angeletti, ti auguro un mondo di bene e salutami Ignazio. Sì, buona serata a tutti. Mamma mia che seria, eh. Ciao. Ciao.